è del 2016 e siamo qui riuniti felice fin un mondo giocatori è fine del mondo signore buona fine del mondo auguri buona fine del mondo e signore abbiamo anche un panorama decente per quest'anno abbiamo una parte di Vallagarina e abbiamo dei nuovi giocatori che non sanno di esserlo ma presto